La campagna vaccinale per medici ed operatori sanitari è oramai in atto. Abbiamo contattato il dottor Cosimo Nume, presidente dell'ordine dei medici e dei odontoiatri della provincia di Taranto, che ha già ricevuto il vaccino, per chiedere la sua testimonianza e il suo feedback in merito a quella dell'attuale speranza per la risoluzione della pandemia. Vai Cosimo! Grazie Alessia, ho aderito all'invito a vaccinarmi tra i primi per dare una testimonianza di fiducia nella scienza ed un'esaltazione ai miei colleghi che devo dire almeno qui da me hanno aderito in gran numero all'invito a sottoporsi alla vaccinazione perché è davvero il primo momento in cui riusciamo ad intravedere una luce in fondo al tunnel, però attenzione, è proprio in fondo al tunnel, il tunnel è ancora da attraversare tutto e per farlo non bisogna assolutamente dimenticare che non deve venire meno l'estrema attenzione alle misure di prevenzione che tutti possiamo e dobbiamo adottare. Mascherina correttamente indossata, distanza di sicurezza, misure di igiene personale e soprattutto a tenersi rigorosamente, scrupolosamente alle disposizioni che le autorità sanitarie e governative ci daranno in questi giorni. Grazie.